Il problema di questo confronto dal mio punto di vista, che è stato un confronto tra l'altro di ottimo livello, è stato, Vespa l'ha tenuto molto bene, non era dubbio quello, ma è stata una cosa, si sono confrontati anche sui problemi, io non sono d'accordo con chi dice era un wrestling vuoto. C'era un altro problema, che in genere il confronto tra leader in tv è la fine di un processo politico. Ci sono due persone che hanno raccolto grande leadership e al momento del loro massimo vertice, quando si sta per votare, loro si scontrano. Qual contrario? Ci sono due persone che utilizzano lo scontro in tv per iniziare una corsa al vertice. Tutti e due sono stati due leader potentissimi, hanno avuto tanto potere, Renzi e Salvini, sono caduti sulla incapacità di includere. Renzi divide anche i suoi, Salvini oltre i suoi non aggrega nessuno. Queste due caratteristiche li hanno portati a perdere la leadership. Loro ora in televisione vanno a riniziare una corsa al consello.